In questo tutorial vi mostrerò come andare a correggere le vostre sopracciglia con dei prodotti molto semplici che ognuna di voi ha sicuramente nella vostra pushette. Un ombretto marrone scuro, dei correttori in stick di diverse tonalità, uno più chiaro, medio e un altro arancio-rosso e tre pennellini indispensabili per il nostro lavoro che sono un pennello tagliato per andare ad applicare l'ombretto sulle sopracciglia un altro pennellino, questo che vi mostro, che serve per andare a pettinare e quindi anche a sfumare l'arcata sopraccigliare e un altro pennellino più piccolino, potete scegliere quello che più vi trovate meglio, per andare a mettere il correttore in alcuni punti. Allora, andiamo a applicare il correttore sotto l'arcata sopraccigliare per andare a creare un punto luce ma anche per andare a aprire l'occhio e a creare una forma più delineata della nostra sopracciglia. Mettete sempre poco prodotto e sfumatelo fino ad arrivare all'effetto desiderato. Naturalmente va scelto l'ombretto per andare a delineare la nostra arcata sopraccigliare del colore più adatto alle vostre sopracciglia. Inizio ad applicarlo all'inizio delle sopracciglia in maniera molto delicata e all'inizio mettendo poco colore che poi andremo ad aggiungere fino ad arrivare all'effetto desiderato. E lo stendo riempiendo le zone più rade per cercare di dare una forma più delineata e precisa possibile. Partiamo sempre dall'inizio del nostro sopracciglio. Io vado ad utilizzare in questo caso degli ombretti, quindi un ombretto marrone scuro sulla nostra modella per appunto avere un effetto più naturale possibile, perché come ben sapete in commercio ci sono anche prodotti che sono fatti apposta per andare a correggere l'arcata sopraccigliare. Molto spesso sono degli eyeliner o delle tinte che vanno appositamente messe. Io per le meno esperte consiglio sempre l'ombretto, perché lo andiamo ad applicare poco per volta, lo andiamo ad applicare e otteniamo benissimo l'effetto che vogliamo anche con un semplice ombretto. Per modificare le nostre sopracciglie e migliorarle occorrono 10-15 minuti. Grazie.